Momenti concitati lungo la statale 73 tra Pieve al Toppo e San Zeno per un inseguimento tra polizia e banditi. Un'auto, una Renault Capture Beige, con a bordo due malviventi, è stata intercettata dagli agenti della squadra mobile che avevano notato dei movimenti sospetti. I banditi alla vista dell'auto della polizia avrebbero sgommato dando così avvio ad un vero e proprio inseguimento. Hanno anche lanciato dei chiodi per ovviamente coprirsi la fuga, intanto i poliziotti hanno sparato alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio. La fuga si è conclusa intorno alle 8 con la Renault dei malviventi che si è schiantata contro un albero. Negli speronamenti sono rimaste coinvolte alcune auto della polizia e alcuni agenti sono rimasti feriti, seppur lievemente. Uno dei due malviventi ha invece accusato un malore portato al pronto soccorso e è stato subito dimesso. In due sono stati arrestati, si trovano adesso presso la questura retina, probabilmente stavano preparando un colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigi del fuoco e la polizia municipale. Un fucile e un passamontagna sono stati recuperati, si cerca adesso una pistola.